Bella ragazzi sono già benvenuti in questo nuovo video, ebbene si quest'oggi siamo di nuovo nella modalità singolo, un'altra mia vittoria con armi totalmente a caso, avevo appena buildato un xm4 e un far veramente in maniera casuale ed è successa una cosa ragazzi mi sono anche un po' impanicato durante la live perché ho fatto una cosa che appunto sembrava essere una sorta di wallhack, la vedrete nel corso del video perché è successa e insomma un po' difficile da spiegare, sicuramente si è trattato di un errore di gioco oppure a casualità. Quindi ragazzi avete capito bene, in questo caso il cheater sono io, ovviamente non faccio nessun uso di nessun trucco, è stata appunto solo una casualità e potrete verificare con i vostri stessi occhi che sto dicendo la verità. Per cui ragazzi un bel singolo con un bel po' di kill dove appunto vi racconto anche cose, è veramente molto molto bello, vi lascio con il video, mi raccomando ragazzi iscrivetevi, lasciate un like, lasciate anche un commentino di supporto, seguitemi su tutti i social, date un'occhiata alle sponsorizzazioni, vi lascio al video, buona visione. Chiamatemi Zurg, ciò sia Woody che Buzz Lightyear, ustia ce ne sono un pochi qua dentro eh, e io atterro qua, prendo la corazza, un'altra corazza, molto utili, eh sì eh, posso combattere a pugno ora eh, occhio ragazzi ho paura che mi pusci uno dietro. The gallows is back, no non so perché lo sto dicendo raga, mi tireranno una di quelle rate raga tra poco, fidatevi, me la sento. Venerdì si gioca, venerdì mi sa raga però faccio solo subday, solo subday un attimino, e il prossimo venerdì invece tornerò a fare il follower. Eh no tu, figa, ce n'è uno qua dentro. Eh no Gian, trovi livelli bassi, tutti i 400, puttana la madosca, si è buono. Catch Roya, court catch Roya. Sai che non le so bene le differenze bro, tra le curve? Sai che non le so? So che io uso standard, mi trovo molto bene. What danger, what danger stanno ancora? Maremma, vedo proprio a livello di bruciore degli occhi che prima ne avevo abbastanza, adesso cazzo è tutta un'altra roba. No cazzo, è dietro. Gian, ti piace rischiare? Un botto. Mi piace rischiare? Let's get it! Dovremmo prendere loot di quello che ho ucciso prima però. Che cazzo, l'ho lasciato là. No buena, no buena. Non ho preso loot di quello che ho ucciso qua. Ora se mi ammazzano tiro tante di quelle bestemmie. Ecco qua. Dove cazzo è questo? This is unbelievable. This is incredible. Ma come fai se la simmental non ce l'hai? Dai me la gioco, me la gioco lenta raga. Mamma mia, non c'ho mica troppa voglia di pusciare all'impazzata così. Questi cazzo. Ho detto massima allerta raga. Prendo già subito massima allerta. E insomma cerchiamo di non lasciarci le penne. Vediamo se c'è qualcuno che prova ad attaccarmi come prima. Rebbe top tipo mari qua dentro gli hangar che sono facili da pusciare. Città eh. Ho desiato di prendere il cazzo 300 volte. Ho smirato tantissimo. Ho fatto tutti gli errori possibili e immaginabili. Tanto adesso mi piglio quello con lancia granate fidate. Uno con lancia granate che mi fa. Gian, cosa stai cercando? Un trophy. Ho una paura bestia, vi giuro. Ho una paura bestia. Tu che sei qua. Dai ti prego, fermati. E non si gode. Magnato! Peccato tutto petto! Si vola di brutto. Si vola, si vola, si vola oggi raga. Eccole qua, uno. Due. Oh addirittura. Sbucca? Ce l'ho scuso sto stronzo. Eccolo qua davanti. Ma è terra. Haha, te l'ho rubata! Te l'ho rubata, sono uno scammatore. Peace, bro! Quali cose? Guarda, sto bevendo degli integratori e per darmi un... Che mi danno una mano a... Guarda, questi qua. Sto provando questi qua. Intanto li testo e dopo ve li porterò su. E vi faccio capire perché ho scelto di affidarmi appunto a una marca di integrazione. Perché appunto tra lavoro, tra fare questo, tra fare YouTube, tra fare streaming, è tutto... Ho tutta la giornata veramente sempre full. E quindi sto cercando un attimino di trovare... Oddio mio, questo qua c'ha lancia granate raga. Quanto sei scemo? Quanto sei scemo? Quanto puoi essere scemo tu con lancia granate? E sta de' cazzo! Ma te magno! Ma te magno, cazzo! Ma te magno! Comunque tra poco raga dovremo abbandonare il mezzo, eh. Come l'altra volta. Quello sì raga, non ce l'ho la patente per il camion. Infatti tra poco lo abbandoniamo qua perché ho paura che mi becchi la pula. Finisco dentro qua, eh. Non ho scusanti. Possibile aver sbagliato tutto dalla vita? Sì, puoi dirlo a parte Gianluca. Gianluca, dai cazzo. Gianluca, dai cazzo. Questo qua sta sopra la collina. Dai cazzo, ti vengo a bigliare. Primo game contenuto. Mmm, non lo so raga. Non lo so. Un po' difficile questo qua, dirlo. No, no, mi hanno fatto esplodere il camion. Figlio di p***a, devi morire. Dei... No, scherzo. Mi socio. Mexican, grazie mille per il Prime. Grazie mille, bro. Almeno mi tiri un po' sul morale dopo essere morto così da uno che mi ha fatto dare il camion. È sceso con la volontà, ragazzi, di morire. Non è che... Bello sto pompa, bello. Godo! Bello sto pompa, mamma mia che bello. Ma raga c'è un cheater qua dentro. È impossibile 12 persone. 12 persone in tuta sta safe. No, 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 no. C'è un cheater, ragazzi. C'è un cheater. C'è un cheater. Cioè c'è qualcosa che non quadra. 12... Ho uno che sta facendo il re. No, aspetta, 16 persone. Mi posso stare, dai. Questo qua è quello che mi ha fatto prima con la macchina. Sacchettina. Vabbè, potete vedere il resto, meglio di niente. Questo, ragazzi, è il punto dove ho mirato, e non so per quale arcano motivo, la mia assistita mi ha agganciato proprio il punto dove pochi secondi dopo ho trovato, appunto, una persona camperata. È stata una casualità? Con un hacker? No, questo è da escludere. Quale motivo si cela dietro questa cosa? È stato un errore della mia assistita? Io presumo molto probabilmente di sì. Era dietro a 27 muri, e quindi sono uscito proprio là a mirare in quella zona, perché appunto mi aveva agganciato in un modo strano. Infatti, c'era il nemico. Vi lascio col finale del video, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sono veramente poche, raga, le persone, però, eh. Sono un co***o di merda. Potevo avvicinarmi un po'. Non posso neanche prendere il lancio. Comunque prima mi aveva fatto un aggancio stranissimo la cosa, la mia assistita, vi giuro. L'avevo fatto tipo così e mi aveva mirato nel punto dove c'era il nemico. Attraverso i muri. Ho l'hainbot, scusatemi. Tanto c'è qualcuno là sopra, raga, sicuro. Vabbè, raga, otto nemici. Cioè, è un po' lenta sta cosa. Non è solito... Qua sopra, ragazzi, ormai. Arriba il gas. Ho vinto! Ho vinto così! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Alla prima! Ho vinto alla prima! Ho vinto! Really? Really? Alla faccia di tutti quelli che c'hanno livelli scarsi. Fanculo, livelli 400, 7... Let's go! Let's fucking go! Let's fucking go!